Questa inchiesta inizia con una morte di un architetto romano abbastanza famoso, anche se non è un archistar, che sembra, almeno apparentemente, una morte naturale. Quello che succede, la coincidenza che insospettisce il commissario è proprio il fatto che nella stessa notte in cui questo uomo muore, una casa di sua proprietà, che si trova a pochi isolati di distanza dal luogo della sua morte, brucia e questo appare chiaro subito come un incendio doloso. Le due coincidenze sono casuali, sembra una casualità troppo forte per non essere indagata e così Ponzetti inizia a scavare nella vita di quest'uomo. Un set importante per questo giallo è il quartiere San Giovanni. Il quartiere San Giovanni è in particolare un palazzo che io amo molto, un palazzo di Piazza Tuscolo, che in realtà è un palazzo costruito come casa popolare, ma che ha qualcosa di affine al mondo di Coppedè e in qualche modo anche a quel mondo Liberty che ci richiama a Gaudì. Infatti l'architettura è anche l'altro grande protagonista, possiamo dire, del romanzo. Certamente è la grande protagonista, non solo per il mestiere dell'architetto che è vittima della situazione sulla quale indaga Ponzetti, ma anche perché questo architetto ha una passione molto particolare per l'architettura del grande Antonio Gaudì, l'architetto della Sagrada Famiglia. Ed è proprio agli studi che lui compie su questa figura così importante tra l'Ottocento e il Novecento che va a finire l'attenzione di Ponzetti e che lo porterà anche a Barcellona nella seconda parte del giallo. E questo ti porta anche a ragionare e aprire anche degli squarci su alcuni elementi della storia catalana? Beh, diciamo che ho scritto questo romanzo quando ancora non era scoppiato il caso catalano, quindi anche qui si tratta di una coincidenza in qualche modo non voluta. Però questo è vero, perché in realtà non solo l'architettura di Gaudì, ma anche la vita di Gaudì e l'ambiente nel quale Gaudì vive e opera sono molto importanti per capire quello che accade e sono legati alla trama, ma in qualche modo mi sono serviti anche per parlare di un tema che a me è molto caro.